25 marzo 2018 lo vedete mi sono alzato adesso tra le tante notifiche ne arriva una di un mio compagno di classe mi dice è fatta dico è fatta cosa? Debrai Debrai all'Inter Debrai all'Inter vi lascio il suo link in descrizione di istra e vi andate a insultarlo sotto nei commenti no scherzo scherzo vediamoci penso erano già soleggiata ecco adesso non lo è più regalo dopo questa notizia sul serio Debrai all'Inter vate la Larsen vate la Barcellona non all'Inter non all'Inter non all'Inter se andava all'Uber era peggio ok si andrà d'accordo bella raga da Ghiottone 99 bella bella ma bella di che regalo ma bella di che ma bella di che regalo 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 Debrai all'Inter Debrai all'Inter il prossimo anno ma come farò a vedere Stefan con un'altra maglia di merda con un'altra maglia di merda non vate nel Real Madrid che tanto non ci incontreremo mai dai ma vaffanculo ma porca comunque a Luglio Debrai Debrai sarà un nuovo giocatore nero azzurro regalo che poi l'Inter ve l'ho detto mio padre è interista quindi mi sim mi è anche simpatica però regalo però regalo Ernanes e Maurito Zarate e Pinco Pallo e regalo vanno tutti lì vanno tutti lì vabbè regalo comunque crespo comunque niente Debrai all'Inter a Luglio sarà un nuovo giocatore a nero azzurro a parametro zero ha vinto la concorrenza di Udite Udite del Barcellona che ovviamente va a spendere 180 milioni adesso non mi ricordo per Debrai a zero noia già a prenderlo bravo Barcellona grande grande ma vaffanculo va bene e niente Debrai all'Inter quindi andrà a formare una coppia con Skinner però sinceramente forse insieme non li vedo benissimo assieme secondo me sono un po' due Galli in un po' laio forse però vabbè comunque meglio averne due forti che solo uno forte e raga poi l'Inter se andrà in Champions speriamo di no ha bisogno comunque di una rosa più ampia rispetto a quest'anno perché quest'anno appunto a parte Miranda Skriniar e Ranocchia non aveva difensori centrali e Miranda e Ranocchia eh raga non è che sono proprio più top Miranda per l'età e Ranocchia sappiamo perché è un giocatore mediocre buono ma non è che è proprio da grandissima squadra e comunque noi lo rimpiazzeremo adesso avete visto il video di ieri anzi ve lo lascio in alto di essere nelle schede perché se lo fosse perso forse con Holger Budstuber e raga vabbè è andata così e niente ma sì ma io l'ho presa con filosofia e raga non è che sono andato a tirare sedie e cose così in giro eh tranquilli orca orca troia porca porca si il ritmo te lleva a mover la cabeza e empezamos come mi musica no discrimina a nadie así que vamos a rompere toda mi mentre se muove mira il ritmo come lo stiamo hago musica grazie a tutti